4, 2, 2, RACE! Ora vi presenterò il mio team, sono Sergio Perez della Sauber. Possiamo vedere che stanno lavorando, vado dal mio ingegnere di pista, che fa finta di lavorare e il ragazzo con cui parlo di più durante il weekend di gara. Qui c'è Marco, ciao Marco! Saluto il Messico e la Svizzera. Poi abbiamo il cupazzo, Ivan, che lavora sull'asse anteriore. Saluta la telecamera. E qui c'è il ragazzo che lavora di più in questo box. Saluta la telecamera. Tutto bene finora? Tutto pronto con la vettura? Spero di sì. Qui vedo che Reto si sta un po' più rilassando, invece. La vettura è pronta? Certo. Tieni d'occhio il segnale della telecamera. Come va? Bene. Parla italiano? Sì. Tutto bene? Tutto ok. Perfetto, perfetto. Come va, Dominic? Grazie. Qui c'è il nostro capo meccanico della vettura. Grazie. Prima che mi dimentichi, un uomo molto importante, Marti. Possiamo parlare spagnolo, ma solo con le ragazze. Come potete vedere, questa è una parte del mio team. Siamo 300, ma questi sono i più importanti, quelli che lavorano sulla mia vettura. Spero che vi siate divertiti. Quattro, due, due, race!